La polizia e i pubblici ministeri stanno tentando di creare un mostro per far credere alla gente che sia io quello giusto, quello che ha ucciso Maddy. Ma io sono innocente, non sono un mostro. Non l'ho uccisa io. Questo è il contenuto di alcune lettere del 43enne Christian Bruckner. Sta scontando una pena detentiva in Germania per aver violentato una donna nel 2005 nella stessa area del Portogallo da dove, due anni dopo, è scomparsa la bambina inglese Maddy McCann. La bimba, di quattro anni, fu rapita mentre era in vacanza con i genitori e i fratelli. Nelle ultime settimane sono emerse testimonianze secondo le quali Bruckner avrebbe visitato il bacino idrico di Barragem do Arade, vicino a Praia da Luz, la località da dove è sparita la bambina. Il sospetto che possa esserci lui dietro questo omicidio cresce di minuto in minuto. La polizia portoghese sta coordinando le ricerche sia in quella zona che in quelle limitrofe, su richiesta della polizia tedesca. Anche la polizia britannica sta collaborando alle indagini. La perquisizione del lago e della diga è stato richiesto dalla polizia tedesca perché il principale sospettato aveva visitato spesso la zona tra il 2000 e il 2017. Lui viveva vicino alla località turistica di Praia da Luz, proprio quando la famiglia McCann era lì in vacanza. È una coincidenza? I risultati degli esami dei reperti sequestrati, tra cui i reggiseni e altri indumenti, saranno resi noti a breve. Ma non è tutto. Negli ultimi giorni sono stati rinvenuti altri oggetti di interesse per le indagini. Sono stati inviati in Germania per essere analizzati. Sono stati prelevati anche campioni di terreno che sono stati confrontati con il veicolo del sospettato per dimostrare la sua presenza in quei luoghi. Gli investigatori hanno annunciato di essere in possesso di fotografie che ritraggono Bruckner in quella zona. Ma c'è un'altra notizia. È emerso il ritrovamento di un inquietante altarino nei pressi del bacino idrico di Barraghem nel 2007. Un'anziana coppia di turisti, all'epoca, aveva inviato agli inquirenti una foto che mostrava un cerchio di pietre con sopra l'immagine di Meddy, che era scomparsa da poco. Accanto ad esso era stato posto un mazzo di gigli bianchi. I due turisti, sessantenni, non ebbero risposta. Perché la polizia portoghese nel 2007 non indagò su questa segnalazione? Della vicenda si è tornati a parlare 13 anni dopo, nel 2020, quando Bruckner venne arrestato. Quando la coppia di pensionati ha saputo che l'uomo era sospettato dell'omicidio di Meddy e aveva frequentato la diga, ha contattato la polizia per aiutare. I pensionati hanno recentemente dichiarato. Ci hanno chiesto di inviare loro le foto e ci hanno mandato una mappa del luogo, chiedendoci di indicare dove fossero le pietre. Adesso le ricerche si stanno intensificando. Sembra che la svolta sia vicina. Sarà così? Bruckner, dalla sua cella, nega qualsiasi coinvolgimento nella scomparsa della bimba. Non ha potuto negare di aver visitato il bacino idrico in cui adesso si stanno intensificando le ricerche. La scomparsa di Meddy McKenna è avvenuta il 3 maggio del 2007. I genitori lasciarono la piccola in camera, nel residence, con i fratelli e andarono a cena in un ristorante vicino con tre coppie di amici. Quando i genitori sono tornati a controllarla, la bambina era scomparsa senza lasciare traccia. La polizia portoghese all'inizio pensò subito a un sequestro. Sospettò, poi, che fosse morta nella sua stanza e che il corpo fosse stato nascosto da qualche parte. I genitori vennero accusati. Tra i sospettati finì anche Robert Murat, che viveva nel luogo dove i McKenna erano in vacanza. Ma nessuna delle indagini è riuscita a fare luce su questa storia. Sono state ricevute centinaia di segnalazioni da tutto il mondo, ma tutte si sono concluse senza esito. Lo sviluppo più importante è stato tre anni fa, con l'arresto di Bruckner, condannato per lo stupro di una turista tedesca di 72 anni e incarcerato per spaccio di droga. Ha numerose condanne per pedofilia, pedopornografia, furto e altri crimini. A questi si potrebbe aggiungere un reato terribile. Il brutale omicidio di una bambina di quattro anni.